Ok Sara, allora facciamo sentire con la mano sinistra che cosa suoni, vai di nuovo, ok, andiamo sulla mano destra, di nuovo, ok, spostiamoci sul piede, ok, perfetto. Allora Sara facciamo sentire i primi fiati, ok, secondi fiati, facciamo sentire i violini, ok, i violini del ritornello, vediamo la nozione, ottimo, bravissima, uno, due, tre. Giorname 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 Ra sätt Giorname Giorname Gen era Nhant Sign Grazie a tutti. Grazie a tutti.